Io sto per fare cosa? Bartolomeo. Sei tu? Ciao, Marshall. Che cosa? Ora basta, siete fuori. Hai sparato. Proprio così tutti gli altri. Che c'è cosa? Quale? Qual è? Sono andata a cercarlo, Marshall. Andiamo. Ok. Ecco, mangeremo il tuo castello pezzo per pezzo finché non la troveremo. Può costruire un altro castello. Ma perché? Non si può costruire un'altra principessa. Non la troverai mai, senza questa chiave. Gli sposi come genitori. Va bene? Esattamente. Il tizio a sinistra dai, muoviamoci. Andiamo.